Dobbiamo lasciare che la luce della fede venga fuori per farla risplendere davanti agli uomini, senza spegnerla, perché ci è stata data come dono nel giorno del battesimo. Lo ha detto Papa Francesco durante l'Omelia della Messa del Mattino in Casa Santa Marta, commentando il brano della Liturgia del Giorno dal Vangelo di Matteo. Il Pontefice ha sottolineato come la luce della fede illumina le nostre azioni e ci spinge a fare il bene, un bene che non deve essere rimandato e che non va nascosto. Se si rimanda il bene che si può fare, si diventa oscuri, come chi trama contro il prossimo abusando della sua fiducia. Ma quante volte la gente ha fiducia in una persona o in un'altra e questo trama il male per distruggerlo, per sporcarlo, per farlo venire a meno. Il piccolo pezzetto di mafia che tutti noi abbiamo alla mano. Quello che si profitta della fiducia del prossimo per tramare il male è un mafioso. Ma io non appartengo a noi. Ma questo è mafia. Profitare della fiducia. E questo copre la luce. Ti fa oscuro. Ogni mafia è oscura. E questo copre la luce.